in collaborazione con Prendersi cura, temi e scenari di salute, un programma curato e condotto da Claudio Capitini A un anno abbondante dall'inizio della pandemia, ora che le vaccinazioni permettono forse di vedere la luce in fondo al tunnel Tutti lo speriamo, medici e scienziati sfornano dati e bilanci che non riguardano soltanto il computo dei morti finalmente dei contagiati e dei guariti ma anche qualche orizzonte attorno, soprattutto il sommerso delle vittime indirette del Covid e del lockdown in altri momenti, per altri settori ne abbiamo parlato tra queste ancora una volta però ecco la categoria degli anziani e in modo specifico oggi vi trattiamo quelli affetti da demenza senile o meglio tutti coloro che dalla pandemia hanno subito la comparsa o l'aggravamento di problemi psicocognitivi Lo facciamo con un grande esperto, un grande professionista, è il professor Claudio Mariani già direttore del reparto di neurologia del Sacco di Milano e ora presidente dell'associazione per la ricerca sulle demenze ARD-ONLUS che salutiamo con vivo piacere, benvenuto professor Mariani Grazie, la ringrazio molto Allora, i neurologi dicono di questi effetti devastanti sugli anziani derivati dal lockdown anche per i non contagiati c'è anche uno studio che voi avete messo in pratica questo nuovo laboratorio di ricerca dell'istituto all'interno del Dipartimento di Scienze Biomediche del Sacco ce ne vuole parlare professore allora? Sì, è uno studio condotto appunto dai colleghi del Dipartimento di Neurologia dell'ospedale Sacco in particolare di questo nuovo laboratorio di ricerca che si chiama Stroke Dementia Lab quindi associazione di demenze con patologie cerebrovascolari che è diretta dal professor Pantoni e basandosi anche su usando una metodica di questionario telefonico ovviamente su una centinaia di persone affette da demenza e parliamo di demenze intendiamo dire soprattutto da malattie d'Alzheimer perché praticamente è dal 60-70% di tutte le demenze è costituito da malattie d'Alzheimer allora queste persone durante questi fenomeni di lockdown innanzitutto questi pazienti sono da considerarsi super fragili non solo fragili, super fragili perché chi pazienti, le persone affette da deficit cognitivo hanno avuto una mortalità quattro volte superiore negli anziani che non rispetto agli anziani senza deficit cognitivo quindi il fattore di rischio è molto importante e hanno avuto un peggioramento di sintomi neuropsichiatrici oppure la comparsa di nuovi sintomi neuropsichiatrici soprattutto ansia, depressione, irritabilità, apatia tra l'altro questi disturbi io personalmente li ho riscontrati anche in pazienti non dementi guariti dal covid quindi è molto interessante questa situazione che è già segnalata anche da riviste internazionali per cui oltre a avere la problematica della demenza quindi essere chiusi in casa e quindi una problematica che ha coinvolto soprattutto anche i caregivers cosiddetti cioè le persone che si occupano di questi pazienti e quindi ha avuto un effetto devastante questa situazione di lockdown adesso probabilmente con le vaccinazioni di massa soprattutto over 80 e soprattutto con pazienti ricoverati in RSA perché il problema era un po' lì cioè questi pazienti in gran parte certo e quindi ha avuto mortalità eccessiva, enorme soprattutto nella prima fase diciamo dell'anno scorso vedi Bergamo eccetera eccetera e vedi le RSA adesso dicono che a meno mi risulta che tutti i pazienti ricoverati di RSA siano stati vaccinati così ci dicono sì così dicono e questa è la cosa fondamentale è fondamentale perché è lì che era il problema e poi i pazienti a casa chiaramente erano vittime di questa situazione e anche chi si occupava di loro ecco questo professor Mariani questo mi pare che sia un aspetto da sottolineare cioè un fenomeno ci dice che si è riversato anche chiamiamoli per la gente che comprenda gli assistenti dell'anziano parliamo di familiari dei badanti che hanno denunciato la comparsa lei diceva di ansia, depressione sì, praticamente di stress uno stress cronico dovuto alla situazione di peggioramento del paziente quindi alla difficoltà di assistere che è aumentata enormemente e queste persone sono molto pesanti da assistere hanno dei disturbi di irritabilità di agitazione disturbi comportamentali gravi per cui diciamo anche magari le persone più tranquille diventavano improvvisamente con disturbi comportamentali gravi quindi l'assistenza era ancora più problematica del solito e questo professore per farci capire questo può aver significato anche un aumento della gestione farmacologica immagino soprattutto quella o sbaglio? praticamente noi possiamo solo usare degli psicofarmaci anche pesanti a volte per cercare di contenere questi disturbi psicocomportamentali però chiaramente a volte si peggiora la situazione vale la pena ricordare professor Mariani che in Italia se ciò che ho letto è aggiornato le demenze senili colpiscono addirittura un milione di persone l'incidenza dell'Alzheimer è addirittura del 70% ma sono cifre preoccupanti sì e sono un continuo aumento tra l'altro perché con l'aumento della popolazione anziana con l'aumento dell'età media chiaramente è un problema molto grave adesso per fortuna sembra che il governo abbia approvato il piano nazionale demenze cioè abbia finanziato il piano nazionale demenze più che approvato è stato approvato anni fa ma senza una lira adesso pare che invece ci sia un finanziamento quindi speriamo che si possa usare questo finanziamento per assumere personale soprattutto neuropsicologi che fino ad ora io personalmente con la mia associazione ho sempre pagato di persone i neuropsicologi nel mio ospedale perché il mio ospedale non voleva assolutamente assumerli adesso siamo riusciti con una manovra a assumerne uno per cui ecco qualcosa e siete al sacco e siete al sacco va detto diciamo al sacco che è un grande ospedale che è in prima linea per questa problematica del covid un ospedale molto molto importante per riferimento nazionale insieme allo spalanzario di Roma certo sento professor Mariani negli anziani con demenza è stato riscontrato un maggiore rischio di contrarre il covid lo si può dire questo? si si può dire anche quello sicuramente anche perché probabilmente c'è una situazione di depressione del sistema immunitario che può influenzare questo contagio più facile perché questo tipo di virus può dare dei grossi problemi a livello respiratorio e quindi può dare una iposia del cervello e poi può avere un neurotropismo cioè può entrare dal naso sappiamo tutti che uno sintomo era la perdita dell'olfatto e del gusto questo virus è un virus sicuramente neurotropo cioè entra dal naso e va al cervello quindi noi abbiamo riscontrato ripeto in persone anche guarite non solo dei dementi persone guarite dal covid questo è importante è importante sottolinearlo persone guarite e dimesse professore è vero? con la sindrome si è detto adesso che è stata descritta proprio la sindrome post covid questa sindrome post covid è praticamente si hanno delle situazioni strane per esempio un'apatia un'apatia che si può confondere con la depressione ma non lo è cioè è un'apatia dovuta a una lesione del cervello non è semplicemente una reazione psicologica perché? perché con la depressione noi possiamo dare dei farmaci con questo tipo di apatia non possiamo non possiamo far nulla ecco per cui è interessante questo fenomeno della sindrome post covid che noi neurologi assolutamente lei peraltro dice che tutto questo spiegherebbe il danno permanente e la incurabilità di certe depressioni perché non sono depressioni perché non sono depressioni vere cioè se sono depressioni rispondono al farmaco agli antidepressivi che ne abbiamo tanti ma purtroppo ci sono delle situazioni di apatia che non rispondono ai farmaci e quindi sono dovute a problematiche cerebrali proprio neurologiche non psichiatriche professore mariani lei oggi ci sta dicendo delle cose che non si sapevano che non si sanno che meriterebbero secondo me modestamente lo dico una sottolineatura di non poco conto come del resto lei ha fatto anche attraverso la stampa visto ecco visto la diagnosi professore che conclusione tirare e che cosa fare cosa fare innanzitutto è difendere queste persone il più possibile cioè con la vaccinazione di queste fasce di età assolutamente l'unica cosa da fare è vaccinare in continuazione e chiaramente avrebbero dovuto partire dal over 80 alcune regioni non sono ancora riuscite a farlo completamente e poi una cosa che è stata fatta forse tardivamente è la vaccinazione dell'RSA per le residenze socioassistenziali per anziani è stata fatta forse un po' tardivamente ecco questo è il concetto lei è un signore un grande signore e pur essendo un grande medico andiamo a dire forse tardivamente sappiamo che ci sono stati dei diciamo colpevoli ritardi non di poco conto non volevo essere così polemico ma la realtà è quella che dice lei ecco professore come presidente di questa associazione per la ricerca appunto sulle demenze ecco di che cosa vi state occupando la ricerca dove sta andando noi praticamente da anni perché è un'associazione che già è stata riconosciuta da due assessorati regionali da diciamo operiamo dagli anni 2000 quindi è già un bel po' di tempo abbiamo sempre finanziato personale ricercatori il nostro statuto è proprio quello di finanziare non è un'associazione assistenziale capisce è proprio un'associazione che sponsorizza chi lavora per esempio questi neuropsicologi questa figura di cui ne parlavo prima che spesso è completamente ignorata dagli enti ospedalieri pubblici e noi abbiamo sempre mantenuto queste persone finanziandole con i lasciti che abbiamo ricevuto con il 5x1000 con queste e poi abbiamo sempre promosso degli eventi scientifici sempre a Milano ma anche invitando anche persone di grande prestigio dagli Stati Uniti dall'Europa su vari argomenti ma sempre un po' centrati sulle demenze sull'Alzheimer soprattutto ecco e per l'Alzheimer soprattutto la ricerca della quale da anni si sente parlare con esiti più o meno contrastanti qualche volta miracolistici e poi che ricadono come sta andando? allora guardi chiaramente in questo periodo ci si occupa solo ed esclusivamente di covid e basta tanto è vero che oggi ho letto sul giornale che tutti i pazienti che soffrono di malattie non covid sono stati spesso trascurati e non curati per cui molto spesso la mortalità è dovuta al fatto che non si curano le persone che non hanno il covid ma hanno altre patologie anche questo va detto anche questo va detto quindi adesso come adesso la ricerca è un po' ferma comunque fino ad ora grossi risultati non abbiamo avuti però si spera sempre in questi anticorpi monoclonali di cui si parla spesso a proposito che c'è forse una speranza di un anticorpo monoclonale che bloccherebbe questa proteina amiloide che si accumula nel cervello però anche qui ci sono molti effetti collaterali insomma si sta studiando questa strada insomma ecco però è una ricerca molto difficile insomma sicuramente e richiede una quantità di denaro immensa che chiaramente noi poverini in Italia si per fortuna esistono comunque associazioni come la sua che appunto non è assistenziale ma che si dà da fare soprattutto per la ricerca allora milioni di dollari di finanziamento immagino noi la ringraziamo professor Mariani è stato un piacere per la ospite ed è stato molto interessante quello che da lei abbiamo appreso quando avete bisogno volentieri grazie buon lavoro professore a presto era il professor Claudio Mariani già direttore del reparto di neurologia del sacco di Milano presidente dell'associazione per la ricerca sulle demenze hard onlus che ancora ringraziamo come ringraziamo voi come sempre per l'ascolto e l'attenzione alla prossima immanchabilmente prendersi cura temi e scenari di salute un programma curato e condotto da Claudio Capitini in collaborazione con grazie a tutti